Da gennaio sono state 104 le vittime di femminicidio, la maggior parte uccise in famiglia. Elena Malizia. Una piega sociale che brucia ancora. Dall'inizio dell'anno fino a ieri sono state uccise 104 donne. 82 tra gennaio e settembre, l'anno scorso erano state 90. È il report della direzione centrale della polizia criminale, illustrato alla presenza anche del ministro dell'interno Piantedosi e del capo della polizia Giannini. Femminicidi commessi per lo più in ambito familiare. Ci vuole una forte opera di sensibilizzazione in grado di incidere su questi fattori culturali che costituiscono terreno di cultura, di atteggiamenti discriminatori e violenti. Aumentate dell'1% i reati di stalking nei confronti di donne, calano dell'8% i maltrattamenti in famiglia, ma crescono del 9% i casi di violenza sessuale. Migliaia negli ultimi tre anni le violazioni al codice rosso. Molta strada è stata fatta, ma molta ne resta da fare, ha detto il capo della polizia Giannini. Occorre preparare adeguatamente le forze dell'ordine, alle quali è stato riconosciuto il merito di aver catturato il killer di tre donne nei giorni scorsi a Roma. Sono state uccise senza un motivo, con una feroce inspiegabile. Purtroppo tutto questo è dietro l'angolo. E quindi io mi sento di assicurare da parte nostra il massimo impegno per tutelare tutte queste situazioni e tutte le donne.